Ciao a Gossip News, bye bye! Sì, devo dire di sì, poi veramente occupandomi in questa trasmissione degli incontri con gli chef ho imparato a mangiare pure molto bene anche a cucinare, però preferisco il sapore di mare, poi sono ligure quindi le origini non ingannano. La cosa che sai cucinare meglio? Allora, le spaghetti, gli spaghetti in generale, ma a me piace la cucina anche comunque sempre, l'importante è, sono gli ingredienti di alta qualità, quindi diciamo cerchiamo sempre di cucinare i prodotti della stagione, del luogo, del posto, quindi ecco per esempio il pesto lo so fare bene. Ma il tuo compagno, se sei fidanzata, sei un compagno, cosa piace in particolare? A me piace, il mio compagno mi porta a mangiare fuori. Però sì, no, sì, diciamo il mio compagno, che devo dire, vabbè ci piace magari fare cose semplici, mangiare cose semplici, quindi però gli spaghetti col pesto sono il mio cavallo di battaglia.